Si poneva in dibattito la necessità di tagliare i film, stavano crescendo le film private, per inserire la biologica. Il discorso era involucrato sul problema della pornografia. Una soluzione estetica molto precisa, cioè quella di un'immagine sovraesposta di un bianco e nero calcificato. Tutto produce questa cosa l'elemento in classico, l'epico, che eletteranno molto importanti per il progetto redattivo a L'Orestino. Il Pasolini non a caso sceglie le città, perché nelle città c'è tutto, c'è tutta la contraddizione. E non a caso sceglie le periferie, perché sono la contraddizione, sono la partina intorno a sole delle città. Il nostro intervento è costituito da tantissime aree. Alcune aree in questo momento nel nostro centro sono spente e altre aree sono accente. Grazie a tutti! Grazie a tutti.